Buongiorno, volevo delle informazioni riguardo alla vostra associazione. Sì, prego, se accomodi. Grazie. Ma ha già letto qualcosa di Iberianza per il cuore? Sì, ho letto qualcosa su M.P. News. Ah, benissimo. Allora, la nostra associazione si occupa di prevenzione delle malattie cardiovascolari e tutti gli eventi che noi organizziamo e comunque i nostri progetti sono per questo scopo. Cerchiamo di sensibilizzare i cittadini, la popolazione a cercare di vivere una vita sana, avere uno stile di vita sano per proprio prevenire le malattie del cuore. Durante l'anno facciamo proprio anche delle manifestazioni nei vari comuni della provincia oppure a Monza, la giornata mondiale del cuore, dove effettuiamo uno screening proprio sui cittadini dei fattori di rischio cardiovascolari. Tutte bellissime iniziative, ma ci sono anche dei vantaggi? Sì, guardi, da due anni abbiamo abbinato la nostra tessera a delle convenzioni perché abbiamo stipulato appunto queste convenzioni con alcune attività che si trovano sul territorio di Monza e della provincia e appunto chi è il socio di Brianza per il cuore può usufruire appunto di queste convenzioni. Benissimo, mi ha convinto, mi scrivo. Guardi, la tessera è questa qui, la nostra tesserina, quando gliela preparerò qui sopra ci sarà scritto appunto il suo nome e cognome e poi l'anno di iscrizione, perciò socio anno 2017 perché poi ogni anno la quota associativa va rinnovata. Bene, grazie, procediamo pure. Grazie a lei, grazie. A lei, salve.